Sono giornate tristi queste per il distretto orafo, per il mondo dell'industria, non solo a retina ma anche italiana, per la perdita di Antonio Zucchi. Parliamo di un museo oggi, quello dell'1R, che ha fortemente voluto. Sì, fu dal lontano 1986 quando l'azienda fece una straordinaria mostra dedicata ai suoi 60 anni di attività, che fu presentata addirittura dal celebre critico Crispolti, che vedendo che materiali esposti disse dovete fare un museo, dovete creare un museo, un museo aziendale, sarebbe il primo in Italia. Antonio Zucchi fu promotore di questo, ci mise subito in moto per ricercare le prime produzioni dell'azienda, nei mercati, nelle aste, quindi riuscimmo a fare una collezione che nel 1998 fu istituito al museo e fu aperto nella vecchia sede di Via Fiorentina e ora continua la sua attività nella nuova sede di San Zeno. Le chiedo, che uomo era Antonio Zucchi? Ha avuto grandi cariche ma è sempre stato molto schivo. Sì, ha usato la parola giunta, molto schivo, però era molto presente in azienda, un uomo straordinario, conosceva il prodotto in modo eccellente, il prodotto orafo, lo sapeva maneggiare, sapeva come era costruito, perché lui aveva avuto un'esperienza fin da giovanissimo nell'azienda, quindi conosceva tutte le tecniche, aveva una grande conoscenza del prodotto.